Perdonanza LIS, il primo progetto per l'inclusione delle persone sordi all'interno degli eventi in calendario per la perdonanza celestiniana numero 729, la presentazione in comune, alla presenza del vice sindaco Raffaele Daniele, di Francesco Mastropietro, presidente della sezione provinciale antinazionale sordi dell'Aquila, di Sofia Leucata, coordinatrice del progetto e di Alessia Venta, disability manager del comune. Il progetto ha previsto un approfondimento linguistico dell'estico per i sordi e sono stati realizzati dei video per riscoprire segni legati al territorio, come ad esempio il segno perdonanza, il segno Colle Maggio. Per queste realizzazioni c'è stata una stretta collaborazione con la comunità sorda locale. Sono stati tre i video presentati, quello più importante è che per la prima volta è stata tradotta la bolla del perdono. Per la prima volta i sordi potranno ascoltare le parole di Celestino nella loro lingua madre. Sono stati realizzati tre video con narratore LIS, voce narrante e sottotitoli. Gli argomenti di questi tre video sono la perdonanza e la sua storia, quindi un escursus storico sulla perdonanza. La storia di Celestino V e una breve spiegazione storico-artistica della basilica di Santa Maria di Colle Maggio e poi il video più importante sicuramente è la traduzione del testo integrale della bolla del perdono di Celestino V. Una cosa che si fa per la prima volta è il progetto da chi è realizzato? Il progetto è stato realizzato dal comune dell'Aquila in collaborazione con la sezione provinciale dell'ente sordi dell'Aquila che ha fortemente voluto questo progetto.